Paris, la ville lumière. Con le sue luci, i suoi colori e i suoi panorami mozzafiato è la protagonista di Ratatouille, il nuovo film Disney Pixar. La Parigi del nostro Topolino è vera, viva, a metà strada tra fotografie d'artista e dipinte ottocenteschi. E l'autore è solo lui, Paul Topolos. Ecco come arte e alta tecnologia si uniscono per creare un capolavoro. Ci sono molti pezzi, molti pezzi, molti pezzi che avevano fatto. Brad Bird aveva un'idea di come voglia Paris per sentire. E l'idea è un'idealizzazione di Paris, che vogliamo fare qualcosa che non era così realizzato ma potrebbe symbolizzare Paris. E' una grande mixtura di arte e di cercare di ottenere le cose come la perspectiva, il mood, il dettaglio. E' questa combinazione di tutta la sopra di tutti questi ingredienti, di lavoro e arte. E Topolos è pronto a insegnare tutti i segreti del Digital Matte Painting. Giovedì, a Viu.